Restiamo ancora nell'anticamera dell'organizzazione, cioè nella fase in cui la persona, l'io, entra in questo mondo che si chiama noi. Una delle condizioni, o dei condizionamenti, meglio dire, che interferiscono in questo nostro modo di partecipare è sicuramente la paura. La paura dice anche quando siamo soli e mica soltanto quando siamo in gruppo, però sono paure diverse. La paura nei rapporti con gli altri è una paura di tipo relazionale, una paura anche se la radice è la stessa. Le paure sono delle emozioni, quindi la paura è comunque qualcosa che mi genera un'emozione ed è un'emozione che esprime la reazione ad un pericolo. Allora quello che conta è la capacità di riconoscere qual è il pericolo, qual è la minaccia che si percepisce, ma soprattutto le minacce riguardano qualcosa che secondo noi rischiamo di perdere, rischiamo di compromettere. Ecco, la domanda ultima da farsi è allora, ma che cos'è che rischio di compromettere? Ed è interessante porsi questa domanda tutte le volte che noi entriamo in un contrasto o che vogliamo evitare qualcosa. La domanda da farsi è, ma che cos'è che mi ha messo paura? Che cos'è che mi ha determinato a reagire in quel modo, come se fosse una persona che ha paura? Possiamo dire senza problemi che tutte le volte che entriamo in conflitto è perché stiamo avvertendo una paura da cui riteniamo di doverci difendere. Possiamo farlo con atteggiamenti reattivi che hanno una diversa connotazione, per esempio l'atteggiamento di fuga, di difesa, c'è una paura molto grande, non sappiamo come affrontarla, ci chiudiamo nel silenzio o addirittura evitiamo, nemmo via. O c'è l'atteggiamento anche diverso, l'atteggiamento di contrasto, di conflitto, di fronte a questa paura si alza la voce, si tirano fuori argomenti di altra natura, si rinfacciano, si rievocano delle situazioni in cui quella volta che tu mi hai detto che... Ecco, c'è sempre la paura dietro, che è quella condizione che non ci consente di entrare nella cooperazione, che non ci consente di abbracciare una situazione di consenso, ma che ci invita al conflitto o alla fuga. Non c'è alternativa, o la fuga o il conflitto. E questa cosa è interessante perché oltre ad invitarci in questa direzione, ci può portare a spingere ad altri, spingere altre persone a fare così. Di fronte a una persona che ci mette paura, allora cerchiamo conforto intorno dicendo ad altri, ma guarda, quella persona è da evitare, quella persona è da combattere. La paura ci condiziona a livello personale e se siamo capaci di influenzare il contesto nel quale viviamo, ci mette in una condizione in cui condizioniamo anche gli altri, cerchiamo di contagiare gli altri per proteggerci anche, perché vogliamo evitare che si creino quelle situazioni che ci determinano la paura. Ma di che paura stiamo parlando? Sembra banale, ma può essere la paura di non essere riconosciuti, la paura di non essere apprezzati, la paura di perdere una posizione, la paura di perdere del denaro, la paura di non essere stimati, la paura di non piacere. Ecco, diciamo che fondamentalmente quest'ultima è quella più forte, la paura di non essere apprezzati, di non piacere. E sono queste le cose che ci determinano. Allora, sono due le strade che si possono intraprendere. O si assecondano le paure e rischiamo di vivere in un conflitto permanente, no? Oppure si fa un percorso interessantissimo, che poi è il più affascinante che ci sia. Lavorare su di sé. Domandarsi. Ma cos'è esattamente che mi mette paura? Qual è quella parte di me che si sente messa in gioco tutte le volte che io reagisco chiudendomi, cercando un conflitto, evitando una situazione? Perché? È proprio ritornando a delle vici di questo che posso anche lavorare su queste paure. E tornando all'aspetto di carattere organizzativo, le organizzazioni sono fatte di persone. E come si dice, la comunicazione è una porta che si apre soltanto dall'interno. Ecco, non si possono imporre modelli comunicativi forzando la mano, imponendo alle persone di aprirci la porta. Dobbiamo convincerle. Quindi una buona organizzazione è un sistema nel quale le persone vengono accolte, dove si trovano a proprio agio e si creano le condizioni affinché tutte le persone aprano quella porta, riescano a fidarsi e soprattutto hanno la certezza che in quel contesto sono protetti e sono al riparo dalle proprie paure. Grazie.